Sono servizi che coprono tutta la gamma dell'intervento di tipo psichiatrico, psicologico, cura, riabilitazione e prevenzione del disagio mentale, ma anche una gamma più vasta, servizi di ascolto, di supporto e soprattutto collegamento con tutti gli aspetti che le problematiche di disagio mentale hanno, con la problematica della socialità, del lavoro, della vita all'interno della comunità, della collettività, che richiede ad esempio la capacità di abitare, la possibilità di incontrare altre persone con cui parlare, con cui avere relazioni affettive. Ci occupiamo quindi di una gamma che ha un cuore, un po' più classicamente se vogliamo specifico, ma poi collegato necessariamente alla rete sociale, alla rete sociosanitaria che oggi è estremamente articolata e complessa. Una parte importante di questo è il volontariato e l'associazionismo che abbiamo stimolato a costituire e che è un grande vaccino di collegamento e di supporto per le nostre attività. Certo, è possibile farla. Possiamo andare da una prevenzione così più secondaria o terziaria se vogliamo, prevenendo lo stigma, prevenendo l'istituzionalizzazione, prevenendo l'isolamento sociale dei nostri utenti, dei nostri pazienti, prevenendo la cronicità, prevenendo l'abbandono e soprattutto la mancanza di speranza, la mancanza di prospettiva. Questo credo sia il nocciolo più grosso del fare prevenzione oggi. L'altro aspetto della prevenzione è una prevenzione del disagio che noi abbiamo interpretato più nei confronti dell'agio, quindi ci siamo collegati a tutti coloro che all'interno della nostra comunità si occupano di giovani, abbiamo privilegiato l'area dei giovani, quindi le scuole, i centri giovanili di aggregazione promossi dalla provincia, dal comune, e quindi all'interno del tessuto sociale facciamo prevenzione cercando di far accogliere da tutta questa rete normale di attività anche i soggetti che sono portatori di un disagio psichico, di un disagio, quando anche profondo, di tipo mentale. Grazie a tutti.